Hello there! Oggi sono qui con Loretta e con Tiago Qui sotto in descrizione troverete ovviamente i link dei loro canali youtube E anche i link dei video che abbiamo fatto sui loro canali Perché contemporaneamente sono usciti tre video, compreso questo In cui parliamo, facciamo challenge di... Oggi non ce la fa ragazzi, non ce la fa In cui facciamo challenge barra video diversi, parliamo di vari argomenti Nel video di oggi parleremo delle prime volte Quindi saranno tutte domande riguardanti le prime volte in ambiti diversi della nostra vita Quindi possiamo iniziare con la prima domanda Parli ancora con il tuo primo amore? Sì Non ce la fa, io ho il primo amore Non sono mai stato fidanzato, quindi non ce la fa Ecco Io parlo tipo per il compleanno, cioè ci facciamo gli auguri di compleanno di Natale Quindi sì, però non è che siamo amiche adesso Però sì, ogni tanto ci parliamo No 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 Qual è stata la tua prima bevanda alcolica? Anche se adesso poi non beviamo più, cioè non ne beviamo più Ma io neanche se fuori Ah, neanche tu? No, no, no Ecco, neanche lei Però la bevanda alcolica è stata, se non sbaglio, la Maretto di Saronno Per me è stato il moncello Eravamo tipo in terza media C'era tipo in terza media Tutti quegli zaini stavano andando al mare perché è l'ultimo giorno di scuola Poi si fa la cena, eccetera, eccetera E quindi poi si andava in spiagge C'erano queste bottiglie di alcol Insomma io ho bevuto un po' di moncello Ho fatto così Non è buono Va Veramente Sì No Io invece credo sia stato o lo spumante o il vino rosso Tipo una festa, un matrimonio, un compleanno Dove magari o mio zio o mia zia me lo hanno allungato per farlo provare Esatto, per esempio lo spumante Aspetta, aspetta, aspetta Per me è alcolico, lo intendo come super alcolico Ah ok Perché è anche lo spumante prima Io invece allora ritratto vino rosso con un pochino di acqua Perché per quella io volevo bere, non so, perché Siccome era una roba approvita per i bambini Esatto, anche io volevo provare Occhio mio nonno forse me l'avrà provato Me l'allungavano con l'acqua Qual è stato il tuo primo lavoro? Il mio in fabbrica In fabbrica In fabbrica A stirare delle maglie Allora mia mamma faceva collaboratrice domestica E lavorava a casa di questo qua che aveva un'azienda di vestiti E ovviamente i vestiti poi si costruiscono Quindi c'è prima il tessuto che tu stiri Ragazzi d'estate Quindi va pure sulla faccia E mi aveva portato a lavorare Perché quell'anno ero stata bruciata E quindi per punizione Per punizione Per punizione Se l'accettate andavo a aiutare in cassa Accettatelo Ma si La prima persona a cui hai pensato stamattina Stamattina credo di aver pensato a voi due O forse a Loretta Perché comunque doveva venire Cioè stamattina lei è arrivata Doveva prendere il treno da Milano e venire qua Quindi penso che io mi sia svegliata E abbia pensato Ah scriviamo a Loretta per chiederle questo questo Se riesce a prendere il treno giusto Esatto A fermarsi e scendere il treno Alla fermata giusta Perché adesso spoileriamo Loretta ha sbagliato la fermata del treno You're the devil You're the devil Siete dei giacchi You're evil in hell Ma allora Vai 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 Allora Forse mia madre Forse Perché non si ricorda Io no Vabbè ma anche io non è che mi ricordo proprio Ma comunque subito dopo Se parliamo di persone Ovviamente anche io Te perché Dovevamo vedereci Io Luca Perché dovevamo organizzarci per una cosa Quindi Luca non mi era mica Chi è stata la tua prima insegnante Loredana Priori Oddio La mia si chiamava Patrizia Se non sbaglio All'asilo eh La mia Luisella Io avevo anche un uomo Sì Che mi insegnava ma che male Ma io non avevo No forse uno Ma anch'io ne avevo tre Io avevo alcune suore che venivano Suore Sì nel mio asilo c'erano alcune suore No io mi ricordo All'asilo Silvia Catiuscia E elementare Luisella Ivana Tiziana Io all'elementare Lorena Mi ricordo che poi era andata in maternità E mi era dispiaciuto un sacco Perché tipo Cosa insegnava? Eh però italiano Era quella che avevamo di più E mi ricordo che mi era dispiaciuto Perché comunque Ero molto brava Sì quindi Poi è andata per la maternità Ma all'elementare Sì La prima volta che sei stato in aereo La prima volta che sei stato in aereo io Non lo ricordo perché sono andato in Al sud forse Con i miei genitori No Quando sei venuto in Italia È vero È vero Ma ragazzi Cioè Noi nel frattempo sto cercando di ricordare Lo sarei No la prima volta che sono venuto in Italia Ovviamente non mi ricordo perché sono venuto in Italia Benno 17 ore di volo Cacchio E invece E invece i miei genitori scusami Con i bambini piccoli Ho fatto tutto il volo In braccio a mia mamma Che poi le leggi una volta Non gli versi Tutto il volo in braccio a mia mamma Oh my god Cioè Non ce la poteva fare No Vabbè Così E io invece Per la rama rakesh Quando contiene avevi? Nel 2010 È stata la tua prima salata nera? Sì perché io Non avendo la cittadinanza italiana Non potevi Non potevo viaggiare Non potevo fare una marea di robe E quindi Ovviamente non potevo neanche viaggiare per lavoro Quindi nel 2010 Quando ho ricevuto la cittadinanza italiana Mi ricordo di questo viaggio E lo tengo veramente con grande affetto Perché è stata la prima volta Che ho potuto uscire Nel treno Puro fuori Io invece non mi ricordo esattamente Perché quando ero piccola Ad estate I miei genitori Mi portavano Cioè andavamo in vacanza Nei villaggi tipo in Egitto Quindi penso che le prime volte Forse ancora più piccole Ero andata in Sardegna Con Con i miei nonni Perché andavamo Tipo andata in traghetto In ritorno aereo Comunque Usavamo entrambi i mezzi Quindi che io non mi ricordo Perché ero veramente piccolissima Quindi forse Prima dell'Egitto Mi sa che c'era Sardegna Però proprio ero super piccola Chi è stato il tuo primo migliore amico Barra amica Ci parli ancora? No per me È molto sofferta questa cosa Io avevo una mia amica Lei era una Roma Era una zingara E lei mi ha trasmesso La passione per il disegno Era bravissima Cioè tipo Lei disegnava Sailor Moon Era veramente tanto brava E mi aveva trasmesso questa cosa Poi io mi sono dovuta operare per l'ernia Pinguinale E quindi sono mancata un po' di giorni a scuola Sono tornata a scuola Che lei non mi parlava più Non mi parlava più E parlava con un'altra mia amica Che si chiama Martina E facevano pucci pucci insieme Perché sei mancata Ma anche a me succedeva tantissimo Cioè Che se una si assentava Diventava migliore amica dell'altra Poi tornava una E ritornavano amiche Ma l'altra se ne andava E litigavano Cioè da piccola Veramente con le amiche Sono successo un sacco Cioè La prima mia amicizia No però comunque Come migliore amica Che io mi ricordo Considero comunque la prima che ho avuto Si chiama Sara E che era una mia vicina di casa Tu l'hai conosciuta? Una mia vicina di casa Abitiamo ancora nello stesso paese Adesso però non siamo più vicine Perché io mi sono trasferita Però ecco Cioè sì ci parliamo ancora Ogni tanto ci vediamo Ovviamente non più come prima Cioè non siamo più migliore amiche Però comunque Elementari Medie Sono stati un sacco di anni In cui veramente ne abbiamo fatti Di tutti i colori Quindi sì Cioè penso che sia lei La mia migliore amica Dell'infanzia Io migliore amici Cioè io ho tanti amici Cioè io dico O amici o conoscenti Praticamente Gli amici sono quelli Comunque mi confido Con ci parlo Perché gli altri L'unico migliore Proppo migliore migliore amico È Luca Però comunque Ho tanti amici Io Cioè nel senso Quindi Cioè Non è chiedermi Cioè Una persona Che ti ricorda La persona a cui mi sono legato Da sempre Perché sta sempre Stata in classe insieme È stata Veronica Anche tu Veronica Ma tu non hai detto Veronica No Lei si chiama Veronica No non l'hai letto Ma non l'hai letto il nome Hai detto quello di un'altra amica Lei si chiama Veronica Io e Sara E comunque io ci parlo tuttora Tu ci parli Io sì Sì ogni tanto ci vediamo Eh no perché ovviamente Nella cultura di Rom Loro sono molto chiusi Tra di loro Poi si spostano E quindi non Mi siete persi proprio Sì Non so neanche O chi si sa Adesso vedo il video Che ne sai La prima persona Con cui hai parlato Oggi Mio papà Mio papà Stamattina mi sono svegliata Eh ma io sono ascoltata No perché Luca Perché hai scritto Il messaggio Perché io ho scritto Il messaggio Il messaggio Poi ho scritto A A Il mio amico dell'università Per avvisare Che non sarà L'università E poi te Eh io e te Ecco Bene La prima cosa Che hai fatto Stamattina Guardare il telefono Proprio io sempre Puscio Segliare dal letto E poi guardare il telefono Perché La prima cosa che fai Guardare Controllare Se qualcuno Ti ha scritto Il messaggio Anche io Guardare il telefono Ho guardato il telefono Poi sono uscita Dalla mia letta a castello Eh sì Il mio letto a castello Che so cosa fai Io appena ti sveglisco Che se li ha pare Purtroppo E non è una bella abitudine Ma credo che tutti Ma siamo millennial Ma siamo millennial Il primo concerto A cui sei andato O andata Io primo e unico Quello di Marco È vero Me lo ricordo Wow Io il primo di zucchero Zucchero Sì ma Cioè a caso proprio Io Allora I miei genitori Mi portavano spesso Di concerti Quando ero piccola Ma anche Di cantanti Che piacevano a loro Quindi io non lo conto Come primo concerto Perché comunque L'ho subito Tra virgolette Tipo Renato Zero Ah allora Cacchio anch'io Il primo concerto E questo non è Beyoncé Esatto Cioè io poi Non lo conto Perché non è un concerto Comunque A cui ho scelto Di andare Quindi il mio Primo concerto Io che ho voluto Desiderato È stato quello Di Tokyo Ten Il 12 aprile 2010 2010 2010 Tokyo Ten Ovviamente Yes No No Le domandano Anche se non sono morti Per un tempo Il primo osso Rotto Io non ho mai Rotto un osso Neanch'io ho mai rotto Il dente Ah il dente Ah C'era Sì A che età Era piccolina Ma che male Il primo tatuaggio I don't have E tu no Io questo Io invece ho fatto insieme La freccia E l'ancora sul dito Quindi questi due Li ho fatti lo stesso giorno Male? Quello sul dito Fa leggermente male Cos'è che senti? Senti tipo Quelli sul gomito Come ti ho detto Quelli sul gomito Sembra Il taglierino Nella pelle Secondo me Io sento Bruciare Bruciare È un bruciore Più che un Come se ti buca un ago Cioè non sembra un ago Infatti No non sembra un ago Eh ti brucia Questo qui mi ha fatto malissimo Per esempio Perché è enorme Però è sopportabilissimo Anche perché io Ho la soglia del dolore Bassissima Quindi se resisto io Posso fare Se resisti ti ago Scusa Andate a vedere il suo vlog Su questo tatuaggio Oh my god E guardate E guardate le facce Che fanno Non si vede La faccia Eh sì Eh sì Io subito Il primo film Al cinema Che hai visto Allora Non lo ricordo Cavolo Oddio Madonna Ma io Per me è difficilissimo Ricordarlo Perché sicuramente Sarò andata a vedere Anche all'elementare All'asilo Magari sapete La bella No La bella e la bestia Forse non è uscito Era uscito ancora prima Però tipo quel film Ovviamente Per bambini Per andare all'edetto Di pomeriggio Esatto Però non me lo ricordo Tipo alla ricerca di Nemo Però Una cosa che proprio Non mi posso dimenticare Che non è sicuramente Il primo film che ho visto Ma il primo film Che mi ricordo Di essere andata È stato Harry Potter E il calice di fuoco Ovvero il quarto Perché tutti i film precedenti Li avevo visti solo in DVD Perché erano tipo Vietati ai minori Di 12 anni E quindi non potevo Andarlo a vedere al cinema Io ero ancora piccola Quindi il quarto È stato il primo film Che sono potuta andare a vedere al cinema Insieme a mio papà E mi sentivo stragrande Stra La migliore del mondo Perché finalmente Potevo vedere Harry Potter Al cinema E quindi proprio Ho proprio in mente Perché tra l'altro Sto andato in un cinema Qua vicino In cui vado sempre E quindi mi è proprio Rimmassa in mente Questo ricordo Anche se non è il primo È il primo film Io il primo non lo ricordo No Mi ricordo High School Musical E però non era uscito al cinema Era uscito solo in TV Il primo film o cartone? In che senso? In generale al cinema Perché era uscito Su Disney Channel Allora mi ricordo Forse il terzo Il terzo è uscito Il terzo Quel terzo non ricordo L'unico che mi ricorda Però è difficile Perché Io sei The Last Dance No, così L'avevo già sentito Sei The Last Dance O meglio ancora Dreamgirls We are Dreamgirls Noi siamo Di un'altra epoca Epoca Un altro millennio Se avessi la possibilità Di esprimere un desiderio Qual è il primo Che ti salta in mente? Perché il mio Cioè Non posso dire Realizzare i miei sogni Perché comunque Sono tanti, no? Cioè non può essere Quale il desiderio Il mio primo desiderio È diventare Stasi di volo da male Ok Di pensare Per me o per altre persone? No Il tuo desiderio Puoi dire la pace nel mondo Per dire Però è il tuo che esprimi Quindi è quello Che ti viene in mente Che mamma guarisce Ok Io appunto O Cioè Che tipo I progetti che ho in mente Possano realizzarsi Però ovviamente Essendo tanti Allora dico Un progetto che ho in mente Di cui non posso dire Che cos'è Vorrei che quello Si realizzasse Cioè Anche io Lo metterei dal suo punto di vista Per me stessa Ovviamente Il primo che sapevo Il primo è tutto mamma Sì sì Ecco Quindi quello Poi Altri per quello Sì 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 Se avessi la possibilità Di imparare a fare qualcosa Qual è la prima cosa Che sceglieresti Un'abilità O imparare Tipo suonare la chitarra Adesso Qual è la prima cosa Che ti viene in mente Imparare a nuotare Ah è vero Io Io imparare Cioè Imparare a cantare bene Proprio Cantare Essere intonata Bene Cantare bene Ok Io saper leggere Annala in tutte le persone Ma non è una cosa Da reale Senti Bu Una roba reale No non so Ah io non so Pensavo su un'imparare Sì è arrivato lui Il beso da Criscio Sì Paragonare Super Tiago Una cosa reale Saper parlare tantissime lingue Figo Figo Comunque io proprio Terra a terra Saper mutare Sì vabbè Non so mutare ragazzi Il primo youtuber Che hai visto Cleo Su Youtube Davvero Ma è vero Perché non ero tanto nel mondo Ma non sono tutta Io Jackie Aina Che è una ragazza Che tratta Make up per pelle scura Che io Ci sono andata sul web Perché ero disperata Perché Nessuno mi sapeva truccare A un certo punto Ho detto Io ho Bethany Mota Che è questa youtuber Che un po' di anni fa Era una delle più seguite Americana Californiana Ed è stata lei Che mi ha Poi anche Zuella Però lei Era proprio stata la prima Perché me l'aveva consigliata Una mia amica Una mia compagna di classe Ed è con lei Che ho scoperto Che esisteva Youtube Non solo per guardare Video musicali Ma anche C'erano persone Che proprio facevano Di video così Per parlare Ed è stata anche lei Che mi ha Insieme a Zuella È ispirata Aprire un canale Youtube Mio Quindi Bethany Ce l'ha nel cuore Bene Le domande Sono finite Speriamo che il video Vi sia piaciuto Se volete potete anche voi Rispondere qui sotto A qualche domanda A cui noi abbiamo già risposto E vi ricordo Che qui sotto In descrizione Oltre ai link Del loro canale Ci sono anche i video Che abbiamo fatto Sui loro canali Quindi Iscrivetevi anche al canale Di Cleo E di Loretta Beh certo Ovvio Sul canale di Tiago Ve lo dico Abbiamo fatto il video Would you rather Con domande Anche abbastanza strane Scelte da Stai retta Non è colpa mia ragazze No Would you rather Esatto E invece Su quello di Loretta Abbiamo parlato Di un argomento Invece più serio Cioè ci siamo messi Proprio lì A nudo Davanti alla telecamera E abbiamo parlato Dell'orientamento sessuale Del coming out Di appunto Della nostra esperienza Mio di Tiago Mentre Loretta Ci faceva queste domande E esponevamo Questo video Bene Bene Noi vi mandiamo Un bacio enorme E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione